una delle tante mattine passa l'altro di questi signori che mi istruivano al loro modo io ero appoggiato a un muro così incazzato nero col mondo naturalmente e pioveva addirotto e io stavo lì a dimostrare al padre eterno che piovi ma io sto qua e stavo là passa il classico vecchietto immaginate il vecchietto che passa con l'ombrello si ferma mi guarda e fa incazzato e io sei non si vede e lui sposta l'ombrello lo rimette e fa tanto lui non smette di piovere e se ne va immaginate la mia reazione ma che cazzo vogliono questi qua che tutte le mattine passano che mi devono dire ma che vogliono dirmi datevole a voi una risposta ma la so